E' finita allo stadio Silvio Piola dopo 95 minuti la pergolettese è in serie C 2 a 1 sul Modena grazie alle reti realizzate nel primo tempo da Morello e da Franchi dopo il momentaneo il pareggio del Modena su Autoretto di Bortolù, una vittoria meritatissima quella dei gialloblu che non hanno mai rischiato hanno sempre controllato l'incontro e alla fine hanno colto il frutto delle loro fatiche una stagione passata a rincorrere e poi in testa e poi dopo l'aggancio del Modena questo spareggio che ha reso ancora più bella la promozione dei ragazzi di Contini